Caro piccolo nipote mio, sono il vecchio nonno tuo e ti scrivo con la speranza di fare un giorno la tua conoscenza sono passato ormai di moda come un mobile di casa e se ho quest'aria un poco afflitta è perché mi hanno messo in soffitta ho saputo che sei buono, gentile, studioso, quasi perfetto allora vieni da questo vecchietto vieni a donargli un'ora d'affetto le chiamano case di riposo invece è qualcosa di molto noioso senza illusioni e senza allegria non potrà essere mai casa mia la scuola nuova e molto cortese riguardo a noi non ha molte pretese ma chiuso il portone appena fa sera qui tira un'aria un po' da galera caro nipote il tempo è passato e tutto ad un tratto io sono invecchiato forse papà dice che non sto male che è già passato il mio carnevale io lo capisco ma in questo ospedale c'è solo la morte della minerale se fino a ieri ho portato in tutto pensavo un giorno di coglierne il frutto invece giunto alla fine della via ero un estraneo qui in casa mia caro nipote vieni qua presto tu che sei giovane buono ed onesto portami a fare una passeggiata prima dell'ultima mareggiata le chiamano case di riposo ma è solo un posto molto noioso dove il tuo nonno dice la zia è un vuoto a perdere è un vuoto a perdere gettato via le chiamano case di riposo ma è solo un posto molto noioso dove il tuo nonno come dice la zia è un vuoto a perdere gettato a perdere gettato Grazie.